Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, sappiate che in nessun altro è la salvezza, poiché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Quindi questo è quello che sta scritto. E quello che sta scritto è la verità, perché la parola di Dio è verità. Intanto c'è una salvezza, o meglio la salvezza. La salvezza da che cosa? Cosa si intende per la salvezza? La salvezza dal peccato, perché l'uomo senza Dio è schiavo del peccato, in quanto chi commette il peccato è schiavo del peccato. Dunque, ha bisogno di essere affrancato dal peccato, liberato dal peccato. Dunque, questa è la salvezza, la salvezza dal peccato. Ora, l'uomo non può autosalvarsi dal peccato. Non può. È impossibile. Infatti, il Dio ha mandato nella pienezza dei tempi nel mondo il suo figliolo, Gesù Cristo, per essere il salvatore del mondo. Ecco perché è scritto che in nessun altro è la salvezza. Proprio perché il Dio ha mandato il suo figliolo, Gesù Cristo, per salvare i peccatori. Quindi, tu che mi ascolti, dato che sei sotto il peccato, devi prestare la massima attenzione a cosa dice la Sacra Scrittura sulla salvezza e sul come si ottiene la salvezza. Dunque, la salvezza si ottiene mediante il nome di Gesù Cristo, il figlio di Dio. Non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Dunque, devi considerare questo, Gesù Cristo, il figlio di Dio, è il salvatore del mondo. All'infuori di Lui non c'è un altro salvatore. Non c'è un altro a cui tu ti puoi appoggiare per essere salvato. Non c'è, non esiste. Lui è colui che il Padre ha mandato nel mondo per salvare il mondo. Dunque, la salvezza dal peccato l'ha provveduta il Dio mediante Gesù Cristo. In che maniera? In questa maniera. Che il Dio appunto aveva già preannunziato secoli prima che si compisse. Mediante la morte e la resurrezione appunto di Cristo. Morte che era stata preannunziata dal profeta Isaia quando aveva detto Egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. E resurrezione che era stata preannunziata da Davide quando aveva detto Anche la mia carne riposerai in speranza, poiché tu non lascerai l'anima mia nell'Hades e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Queste parole erano state appunto proferite per mezzo dello Spirito Santo e riguardavano il Cristo, cioè l'unto di Dio che il Dio aveva determinato prima della fondazione del mondo di mandare nel mondo. E queste parole, queste parole fedeli e veraci Dio le ha mandate ad effetto nella pienezza dei tempi in Gesù il Nazareno. E per quello che annunzio la buona novella che Gesù è il Cristo che è morto per i nostri peccati secondo le scritture che fu seppellito che risuscitò dai morti il terreno secondo le scritture e che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Questo è l'Evangelo potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente del giudeo prima poi del greco poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede secondo che è scritto ma il giusto vivrà per fede. Ecco dunque in che maniera la salvezza si ottiene mediante il nome di Gesù Cristo cioè credendo nell'Evangelo che appunto ti ho annunziato da parte di Dio nel nome di Cristo Gesù l'Evangelo sì è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente ecco perché ti esorto a ravvederti tu che sei lontano da Dio che brancoli nel buio e che sei diretto in perdizione ti esorto a ravvederti e a credere nell'Evangelo affinché tu sia salvato dai tuoi peccati affinché tu ottenga la remissione dei tuoi peccati sì perché tu hai accumulato peccando dei debiti davanti a Dio perché i peccati sono dei debiti e poi affinché tu sia giustificato sì giustificato reso giusto affinché tu ottenga la vita eterna la vita eterna e scampi così al fuoco nell'inferno dove sei diretto perché quando ti ho detto che sei diretto in perdizione verso la perdizione questo significa che sei diretto all'inferno questo luogo di tormento nell'aldilà dove appunto vanno coloro che muoiono nei loro peccati ma sappi questo appunto che se questa è la via che tu stai percorrendo in questo momento c'è un'altra via la via della salvezza nella quale appunto camminano coloro che sono stati salvati tu quindi cosa devi fare per essere salvato ti devi rivedere e credere nell'Evangelo e allora sarai salvato e allora ti incamminerai per la via della salvezza che mena nel regno dei cieli che mena appunto in questo luogo di conforto di riposo dove si dove entrano appunto nella pace dove entrano nella pace coloro che muoiono in Cristo dove si riposano dalle loro fatiche dove c'è la gloria di Dio quindi vedi la differenza tra colui che ha creduto nell'Evangelo e colui che invece non ha creduto nell'Evangelo d'altronde Gesù lo ha detto chi non avrà creduto sarà condannato e allora che farai che farai dinanzi al lieto annunzio relativo al regno di Dio io spero e prego che tu ti ravvedi e creda nell'Evangelo nell'Evangelo di Cristo Gesù il figlio di Dio perché in nessun altro è la salvezza chi ha orecchi da udire oda di Dio